Vengo da 20 anni lavorato in grandi palestri, in grandi centri fitness dove, lo sai meglio di me, abbiamo un'utenza media costante che in Europa non supera il 6%, quindi nel mercato globale del fitness chi ha la continuità è un 6% della popolazione, forse i paesi del nord sa qualcosa di più. E quindi è un mercato estremamente specializzato che continua a dare servizi e a riempire una nicchia piccolissima di persone, ma c'è un buon 90%, facciamo un 85% per starci dentro, di persone che vorrebbe fare qualcosa, vorrebbe allenarsi, vorrebbe fisicamente, ne sente la necessità, ma si sente lontana da quel mondo lì e in quel mondo lì continuiamo a mantenere quei pochi che arrivano continuando ad aggiungere pezzi. Il tapirulan che ha il monitor, che ha il touchscreen, che ti fa leggere le mail, che ti fa ascoltare la musica, fra poco ti mettono il microonde, ti aliena completamente, quindi anziché sistemi che ti riportano nella tua dimensione, sono sistemi alienanti. Quindi uno dice vado ad allenarmi in palestra, vado una mezz'oretta, non mi voglio stressare, la mattina in ufficio legge la nuova tassa che il governo ha fatto, va in palestra per non pensarci, bam, apre il web del macchinario, il governo ha presentato le nuove tasse, ritorna in una situazione stressoria da cui voleva scappare e in realtà se la ritrova addosso. È un modo simpatico per farti capire come un sistema di allenamento tipo l'elettrostimolazione integrale attiva ti permette in maniera intensa di lavorare in brevissimo tempo coinvolgendo la maggior parte dei volumi muscolari. Non avere nessun impatto a livello articolare perché nel mio metodo tanti li usano, per come lavoro io non si usano sovraccarichi. Lorenzo non ha mai usato un sovraccarico per esempio, ma è un livello d'elite e soprattutto permette alla persona di rientrare e vivere all'interno del proprio corpo perché se per 20 minuti non ti concentri su quello che stai facendo, soccombi a livello fisico e a livello di percepito a quello che il device ti sta dicendo. Ad oggi siamo arrivati in centri dove la persona è dedicata al cliente e si allenano al massimo due persone contemporaneamente proprio perché la figura dell'operatore in questo umanesimo tecnologico a cui ambisco e di cui ti parlo è fondamentale. L'operatore rimarrà sempre fondamentale per me. Più la tecnologia si alza e quella evolve a una velocità della luce, più c'è la necessità di alzare le qualità dell'operatore che la maneggia.